Figliettino, ti sei messo la maglia come deve andare messa? Fammi vedere, fammi vedere. Sì, girati, fai una volta. Perfetto, ti senti a posto amore? Sì. Tutto ok? Bene, andiamo a conquistare il mondo anche oggi? Andiamo. Via! Oggi partiamo verso Playa Blanca che domani ci sono i nostri amici che fanno il mercato che qua piano piano stanno riprendendo a fare appunto i mercati e andiamo a vedere com'è il mercato di Playa Blanca. Intanto ci fermiamo un po' a... non so come si pronuncia... FEMES. Ci fermiamo lì dove è stata la prima fermata del primo anno. Fantastico quel posto. Piove anche un po'. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vabbè, ci siamo divertiti. Proseguiamo verso Playa Blanca. Grazie a tutti. 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 Andiamo a vedere se c'è il mercato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dovevamo fare poi una grigliata di carne, ma... sempre in questi giorni il maltempo non da tregua. vorrei sapere da dove viene questa... Non riesco a togliere dalla mia faccia. No, ma devo mettermi... No, ma... e quindi adesso andiamo a vedere... E quindi adesso andiamo a vedere il mega mercato che però presenterà la metà... metà della metà della metà... metà della metà... e di solito... e di solito quante ce n'erano? su duecento... su duecento... su duecento... su duecento... alla fine... alla fine non siamo andati al mercato perché infatti è arrivato brutto là in alto... siamo qua adesso... in riva... a costa Teghise... e qua c'è Stravello... però... ragazzi... la porta del camper si è rotta... si è rotta... si è rotta... si è rotta... dove c'è il gancio? qua... è attaccata a questa bambierina qua del cazzo... si è rotta... si è rotta... adesso per fortuna che abbiamo tutto il nostro armamentario con noi... si è rotta... provo a bucarmi un dito... spiegaci cosa hai intenzione di fare... adesso l'ho già aggiustato... però non mi piaceva... allora adesso sai cosa facciamo? spiegaci allora cosa hai fatto... ah niente no... ci sono due viti qua... solo che secondo me non tiene abbastanza... adesso abbiamo fatto una prolunga... per... per metterci altre tre viti qua... e basta... il gioco è fatto... vediamo se ce la fa... o se non ce la fa... il nostro McGyver... ora... hola... 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 ultimatum... L'antoria ce l'abbiamo fatta, vero biondo? Eh bisogna vedere se si chiude la porta Niente la porta non si chiudeva, quindi abbiamo ristaccato tutto E cosa stai facendo adesso amore? Stiamo cercando di fare un'altra modifica Che modifica fai? Non riesco a spiegare Ma qual è il problema? Che deve stare più in dentro o più in fuori? Ma deve stare più che c'è una posizione dove si chiude la porta No si chiude, si chiude con la chiave E se non becchi quello non riesci a chiudere la porta con la chiave Niente quindi altra modifica MacGyver in action Lo scopriremo a breve Voi abbiamo giustato la porta Boom Preparazione MacGyver effettuata Tutto regolare Quattro viti Un pezzettino di sciega da ferro Lama da scieghetto da ferro Non vede l'occhio Non ci fa male Chiusura Apertura Chiusura Apertura Tutto regolare Un pezzettino di sciega da ferro 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 Chiusura Un pezzettino di sciega da ferro